eccoci qua allora ho aspettato un po prima di creare un contenuto quindi di fare un video per fare il punto della situazione perché volevo avere più informazioni possibili per creare un disegno chiaro di quello che è successo di quello che sta succedendo e soprattutto provare a fare una previsione di quello che potrebbe succedere quindi ti invito a vedere questo video fino alla fine perché forse è uno dei più importanti che potremmo fare e condividilo soprattutto condividilo con persone che hanno investito in luna condividilo con con tante tante persone partiamo da uno scenario uno scenario cercherò di non cristonare durante il video perché sono veramente arrabbiato però cerchiamo di mantenere la calma e analizzare bene cosa sta succedendo per la luna oggi ha avuto un altro cambio il 37.55 per cento negli ultimi sette giorni è uscito il 70 per cento della liquidità siamo a 6 miliardi contro i 20 e passa che c'erano prima d'altra parte protocolli come tron come ethereum come solana sono in crescita quindi sta crescendo il loro la loro liquidità di questo se andiamo a vedere gran parte e qui penso che sia palese quello che sta succedendo gran parte sono usciti da anchor un 76 per cento da lido da mirror anche qui che fino a ieri era abbastanza stabile sta uscendo tanta 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 liquidità il che non è buono leggiamo un breve pezzo di un articolo e poi anzi andiamo prima a fare un un attimo un a concentrarci su quello che era luna vi chiedo scusa in anticipo se in questo video non ci sarà magari sarà ci saranno delle imprecisioni o delle dei momenti un pochino così perché ho intenzione di non far tagli di metterlo diretto quindi non editarlo proprio perché avendo problemi con la connessione internet rischierei di farlo uscire troppo in là invece voglio che abbiate già il prima possibile questo video quindi non lo edito non faccio nulla ve lo ve lo do subito così com'è quindi vi chiedo in anticipo scusa per questo allora prima di tutto andiamo a vedere le stable coin abbiamo detto le stable coin ci sono di due tipi quelle centralizzate e quelle decentralizzate quelle centralizzate come funzionano c'è una banca banca una riserva di valore che può essere dollaro euro quello che è quindi con gli usd tradizionali e uno a uno in rapporto uno a uno vengono creati dei token quindi delle cripto questi token sono un esempio lo usdt e lo usdc d'altra parte abbiamo le decentralizzate dove non c'è un rapporto uno a uno ma vengono create quelle che si chiamano le algoritmiche cioè delle cripto valute c'è delle stable coin perdono che non sono legate quindi non anzi diciamo così algoritmiche non legate al fiat quindi alla valuta tradizionale usd euro e quelle che sono allora in questo campo ce n'erano due che erano il dai e lo usd ora ne stanno nascendo altre ora il dai in realtà non è così decentralizzato infatti è supportato con lo usdc quindi lo toglierei da questa parte qui l'unica veramente decentralizzata tra virgolette perché comunque c'era ancora una parte di centralizzazione che era il potere decisionale che non era ancora dato totalmente in dao comunque l'unica di queste valute era lo usd cioè il terra dollar la valuta la stable coin di terra luna come funzionava questa il valore di questa valuta per rimanere uno usd circa uguale a un dollaro tradizionale veniva attivato un meccanismo di burn tra luna e usd quindi usd e luna ogni volta che qualcuno acquistava un luna quindi creava un luna veniva c'è un usd scusate veniva bruciato una quantità di luna quindi se luna vale un dollaro e uno usd vale un dollaro viene bruciato uno usd per creare un luna e viceversa se luna vale 100 dollari bruciando 100 luna cioè bruciando un luna si possono andare a creare i 100 usd e quindi si va sostanzialmente l'ho detto in modo molto spiccio è chiaramente non è proprio così però giusto per rendere l'idea e questo peg quindi questa correlazione tra usd e luna dovrebbe mantenere nel tempo costante o almeno provarci il valore dello usd vediamo a questo punto quali sono i rischi perché ho parlato di questo perché è importante analizzare quella che la situazione capire partire da che cos'è terra luna per poi andare a vedere cosa sta succedendo allora in questo caso il problema è che queste valute sono inflazionate cioè sono a rischio inflazione e seguono l'inflazione perché essendo correlate col dollaro tradizionale se il dollaro tradizionale scende anche lo usdt e lo usd si lo seguono stiamo vedendo un'inflazione da paura che sta crescendo bene queste valute lo seguono a ruota nel caso di terra quindi questo qua è il principale rischio delle centralizzate oltre oltre quindi inflazione depreciamento oltre anche al fatto che dall'oggi al domani possono chiudere e bloccarti i conti perché sono molto centralizzate quindi tutta una serie di cose d'altra parte abbiamo lo usd lo usd non ha questo rischio qui ma il rischio è intrinseco perché attaccandolo cioè rompendo questo equilibrio che c'è questa qui una bilancia tra luna e dollaro si può incrinare il rapporto e di conseguenza portare lo usd a scendere di valore e questo è quello che stiamo vivendo oggi quindi questo rischio che ripeto mi ha lasciato del tutto sconcertato perché non mi aspettavo mi aspettavo che ci sarebbe stato qualche attacco contro usd ma non mi aspettavo un attacco di tale portata e non mi aspettavo fosse qualcosa di così pesante tant'è vero che io su usd avevo veramente tanto 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 capitale quindi non mi sarei mai 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 aspettato una cosa del genere e per questo sono molto arrabbiato anche perché mi ricorda delle cose che ho già visto tempo fa gli faccio un nome soros per esempio quando aveva fatto un attacco di questo tipo al alla sterlina quindi shortando facendo tutta una serie di cose ora non voglio fare il complottista però voglio andare ad analizzare la situazione perché comunque un sistema da 20 e passa miliardi di dollari non crolla in tre giorni e non puoi buttare giù un sistema da 20 miliardi di dollari in tre giorni così pesantemente come lo stanno come sta andando giù adesso quindi c'è qualcosa dietro da un lato ricordo che l'una è sempre stata quella valuta vista come la genialata per la metà delle persone dagli altri però un ponzi o uno scam e proprio su questo si è giocato e ora andremo a vedere il perché obiettivamente obiettivamente molti dicono ecco è scammata in realtà non sta scammando anche perché effettivamente se fosse scammata cioè se fossero scappati via con i soldi non sarebbero lì a fare tentativi di recupero e soprattutto sarebbero scappati con i miliardi in bitcoin che hanno in tasca invece i miliardi di bitcoin li stanno shortando li stanno impegnando per cercare di recuperare quindi effettivamente questa previsione non c'è però i più i più che cosa vedono vedono ecco le cripto sono pericolose ecco ti hanno fregato ecco non va bene è troppo è troppo delicato ecco è troppo manipolato ecco tutte queste schifezzine qua sono quelle che servono per ridurre l'adozione delle cripto ridurre l'adozione delle cripto e come non passando quindi seguitemi nel ragionamento non passando dal il bitcoin che scende dell'una che scende ma dal abbattere una stable coin è questo che dà profondissima incertezza nel mercato profondissima è questo che fa far male ora andiamo a vedere che cosa è successo nella pratica partendo da un articolo che potremmo prendere con le pinze ma che comunque secondo me ha del fondamento e non è da scartare allora l'articolo è questo qui ve lo mostro vi leggo solo un estratto un pezzettino vabbè il grafico abbiamo visto è andato giù adesso è ancora più pesante questo è di due giorni fa un giorno fa penso mentre la situazione è ancora in corso un certo numero di teorie di cospirazione stanno galleggiando intorno alla community delle criptovalute speculando su ciò che potrebbe aver portato UST a perdere il suo peg come sottolineato da Ran Neuner cofondatore e CEO di Onchain Capital qui non è gente comune che lo dice un fondo di investimento blockchain e servizio di consulenza una speculazione è che l'attacco a UST sia stato coordinato dalla grande società di investimento Cittadel questo sembra altamente plausibile data la loro posizione anti bitcoin ha sostenuto Neuner Neuner non so come si pronunci inoltre quando il CEO di Terra Docquon ha pubblicizzato che avrebbe protetto il peg ad un certo livello è stato un invito questo ad attaccare Wall Street è esperta in questo e lo sappiamo il trader di bitcoin Jacob Canfield ha persino ampliato la teoria dicendo che Cittadel è il colpevole del peg di UST ha affermato che la società di investimento ha preso in prestito una grande quantità di BTC ne ha scambiati alcuni per UST e ha iniziato a scaricare i suoi BTC e UST dopo aver aperto una posizione allo scoperto altri hanno fatto un parallelo tra il DPEG di UST e il modo in cui Fear Tree Capital Management un hedge fund a 4 miliardi di dollari voleva cortocircuitare Tether all'inizio di quest'anno quindi non è una cosa campata lì nel frattempo Larry Sernak il direttore della ricerca e dell'analisi di The Block ha detto che Jump Capital e Almeida Ventures e altre aziende VC potrebbero fornire altri 2 miliardi di dollari per aiutare a salvare gli UST quindi tanti contributi da tante persone stanno iniettando liquidità per cercare di aiutare che questa voce sia vera o no ha perfettamente senso che si diffonda ha detto Sermak la questione più grande qui è che anche se riescono a portarlo a un dollaro per qualche miracolo la fiducia è irriversibilmente sparita questo è il problema quindi si tratta di una questione di fiducia e infatti andiamo a dare un'occhiata come se la cava Anchor Protocol e questo è il problema sta andando giù la liquidità sta uscendo attualmente ci sono dentro ancora 5 miliardi mal contati siamo passati da 4 maggio con 14 miliardi di dollari a oggi con 6 con 4 miliardi e 5 miliardi in totale tra il deposito e il borro cioè la gente sta fuggendo la situazione del LERN è ancora è salita ovviamente perché comunque rimane all'interno la yield reserve la gente esce ce n'è di più per chi per chi è dentro però si sta svalutando tantissimo lo UST che sta andando sotto i ponti veramente perché andiamo a vedere anche la situazione di UST per capire cosa sta succedendo UST CoinGecko o CoinMarketCap è uguale si possono utilizzare entrambi vediamo lo UST in che situazione è ma è veramente pesantissima ragazzi pesantissima eccolo qua eccolo qua ci troviamo attualmente vediamo se escono 7 giorni giusto per capire ci troviamo ad un valore di 0.35 dollari quindi proprio il DPEG ormai cioè non possiamo neanche dire eh ma forse si recupera forse no il DPEG è andato siamo a 0.35 magari si riesce a recuperare non lo so però siamo a 0.35 è brutta la situazione per una stable coin è brutta cioè una stable coin che scende del 59% ragazzi è proprio brutta 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 volevo invitarvi anche a vedere una cosa la maggior parte del capitale la maggior parte del capitale di UST e di Luna quindi il maggior volume di trading su questa piattaforma cioè su Terra Luna arrivava da Binance e questo magari ora non interessa ma tra poco vedremo il perché dico ciò cioè gran parte del capitale dei movimenti arrivavano proprio da Binance e questo è importante è importantissimo andiamo a ricostruire un attimo ciò che è successo giusto da riuscire a capire qualcosa allora partiamo qui today's attack on Terra Luna UST allora l'attacco di oggi a Terra Luna è deliberato e coordinato 285 milioni sono stati venduti su Curve e Binance da un singolo un singolo wallet scaturando cioè facendo partire tutta una serie di short il progetto dava fastidio a qualcuno andiamo a vedere che cosa è successo prima di vedere gli articoli ripercorriamo un attimo i passi che hanno portato a questa tragedia perché questo è allora prima cosa mi sono scritto tutto così da avere sotto mano ogni cosa Terraform Lab quindi allora così se c'è un pochino più spesso allora ok allora Terra Form Lab preleva 150 milioni di dollari da il triple su Curve che cos'è Curve è sostanzialmente una piattaforma ve la mostro subito anzi una piattaforma che ci permette di mantenere mettere in staking o meglio fornire liquidità e ottenere dei risultati cioè ottenere dei ritorni oggi non mi vengono le parole sono talmente incazzato che non mi vengono le parole è questa piattaforma qui quindi ho i vari pool e vado a caricare e mi danno delle percentuali dei ritorni ora nella triple che era composta da DAI USDC e UST è successo il casino innanzitutto la domanda è ma perché sono andati a prelevare la liquidità perché il Terraform Lab è andato a prelevare liquidità da questo pool è andato a prelevare liquidità da questo pool perché doveva uscire il for pool proprio nel giorno in cui sono andati a prelevare quindi l'idea era toglierli da qui e andare a inserirli al for pool nulla di più non c'era nessun tipo di problema in questo peccato che si è innescata una una guerra una guerra vera e propria allora come funzionano i pool i pool funzionano che ad esempio il triple io ho tre pool abbiamo detto il DAI lo UST e lo USDC vado a fornire liquidità a tutti e tre i pool in parte uguale quindi quindi sono 25 cioè sono 33 e qualcosa 33 33 a questo punto a questo punto questo è quello che dovrebbe rimanere questo è il bilancio che dovrebbe rimanere si è innescato un problema che adesso andremo a vedere fatto ciò quindi presi questi 150 milioni che poi sono stati reinseriti sono stati poi reinseriti ho venuto il singhiozzo un indirizzo ha iniziato a fare delle mosse particolari e andiamole a vedere proprio dal ecco qua andiamole proprio a vedere dalla blockchain allora innanzitutto qui ho trovato il damper di terra ed eccolo qua qui siamo su terrascope per vedere quelli che sono i movimenti su terra e questo è l'indirizzo wallet terra 1 eccetera questo indirizzo wallet qui ha fatto questa manovretta dove 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 possiamo vedere chiaramente vediamo se lo trovo ecco qua vediamo innanzitutto che il 7 maggio alle 22.38 ha inviato 18 milioni di dollari a Binance poi ne ha rinviati altri 15 e comunque ce ne sono un po' disparsi poi ha preso 85 milioni li ha tolti da Anchor Protocol withdraw 85 milioni da Anchor Protocol e li ha inviati li ha wrappati facendo un bridge per passarli da Anchor a Ethereum e andiamo a vedere per cosa è successo qua su Ethereum quindi continuiamo a seguire quello che è il percorso dei soldi qui su Ethereum il portafoglio in questione allora vediamo un po' qua ecco qua sono entrati 85 milioni e poi sono usciti 85 milioni Wormall e sono quindi da questa cosa qui l'ha fatta da da Curve in cambio di 84 milioni di USDC quindi questa è proprio la transazione comandata vedete from 85 milioni in USD su Curve Finance in 84 milioni quindi ha fatto questo primo movimento con 85 milioni all'interno di Curve gli altri 100 milioni e anzi in realtà di più perché ne ha trasferiti di più li ha inviati su Binance ricordate quello che ho detto all'inizio che Binance era il maggior ecco qua torniamo alla nostra lavagnetta Binance era il maggior il maggior centro di scambio di Luna e che quindi portare dei fondi lì e damparli di là è pericoloso quindi abbiamo da un lato Curve dall'altro Binance questo questo è il top di scambio di Luna Luna e UST chiaramente Luna UST con quello che è l'ecosistema di Terra Luna quindi qua ci sono più volumi di scambi più volumi su Curve avevamo i tre i tre pull quindi mossa ideale per andare a creare un po' di instabilità anche di qua cosa succede come funzionano i pull prima di tutto abbiamo detto che noi andiamo a versare liquidità nel momento in cui io sono un trader io sono questo qui sono un trader e voglio scambiare USDC per DAI che cosa faccio inserisco USDC dentro la pull ipotesi voglio scambiare 100 USD per 100 DAI e la pull è fatta da ipotizziamoci siano 1000 dollari dentro 1000 dollari nella pull e quindi sono 333 in DAI 333 in USD 333 in USDC io voglio scambiare 100 per questi in cambio di quelli quindi vado a versare 100 qui che quindi diventeranno 433 e 100 me li porto via da qua che diventeranno quindi 233 esiste poi il meccanismo di rebalance che attua lo US che attua curve per ripristinare il bilancio perché in questa situazione cosa succede che dove ce n'è di più verrà venduto a meno quindi scenderà il suo prezzo rispetto agli altri due poi dipende quanto è pesante questa discesa in genere comunque abbastanza velocemente va a ribilanciarsi a meno che questo non sia pesante quindi un cambio pesante bene facendo questa manovra su curve che aveva di liquidità adesso non so quanto qualche qualche milione qualche penso un centinaio qualche centinaia di milione adesso io non so esattamente quanti ne avesse però qualche centinaio di milione ha portato a salire del 65% quindi dal 33 che doveva essere UST grazie a questa mossa qui e a diminuire gli altri due le altri due pool allora questo cosa ha innescato ha innescato un calo dello UST e quindi un leggero depeg quindi si è discostato il valore dello UST un pochino da quello del dollaro tradizionale quindi dal dollaro dal 1 dollaro 1 UST perché perché è iniziato si è iniziato a venderlo a meno proprio perché c'è stato questo pesante comunque cell che ha portato a salire la quantità di UST nella pool nella piscina ma a diminuire quello degli altri di conseguenza ha destabilizzato questa roba qui UST è andato in depeg leggero ma questo ha innescato che cosa la speculazione la paura e tutta una serie di robe quindi le persone hanno iniziato a uscire a fare exit intanto su Binance non sappiamo esattamente cosa sia successo perché Binance è centralizzata quindi non abbiamo accesso ai dati ma molto probabilmente visto che abbiamo visto in quel giorno un calo dei volumi e una cell pressure quindi una pressione di vendita molto 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 elevata proprio circa di 100 barra 120 milioni è possibilissimo che questa persona qui o questa organizzazione o chi cazzo sia abbia venduto pesante anche di qua portando contemporaneamente su Curve quindi su ETH che era il maggior pool al di fuori di UST del diciamo del protocollo di Terra Luna il maggior il maggior quello più utilizzato quindi portando un down di qua e un down contemporaneamente di qua per quello dico che non è un'azione casuale molti dicono e vabbè una persona visto che è sceso la liquidità quando Docquon e il team hanno prelevato 150 milioni per spostarli là ne ha approfittato per del leggero diciamo scostamento di prezzo per andare a fare un'operazione di speculazione ok ma fosse stato così avrebbe caricato direttamente tutto su Curve fatta la manipolazione e boh è fuori non vai a fare una divisione di questo tipo e soprattutto non vai a fare entrare liquidità su Binance un po' per volta con tanti piccoli ordini così come su Curve su Curve hai fatto una botta sola ma su Binance tanti piccoli ordini ora questa roba qui non è casuale a mio avviso perché questa roba qui è congegnata perché non avrebbe alcun senso o sposti tutto da un lato o sposti tutto dall'altro non fai non fai una divisione di questo tipo quindi è un attacco vero e proprio a mio parere che poi siano stati quelli di Luna o sia stato direttamente qualcun altro alcuni dicono addirittura Binance non si sa ognuno poi ha le sue teorie però questo qui è un attacco vero e proprio a questo punto è uscita poi la 4pool Luna ha ricaricato la sua liquidità i suoi 100 milioni e passa sulla 4pool beh sulla 4pool però adesso qual è la situazione perché dobbiamo capire che se siamo messi male è perché comunque sulla 4pool adesso eccola qua con USDC USDT e FRAX il problema dov'è? il problema vediamo com'è il problema è qua il problema è che lo USD ce ne sono 91% 2% questo 2% l'altro 2% l'altro questo cosa succede? succede che porta lo USD ad essere altamente depreciato cioè io 1 USD sono 34 centesimi questo ha innescato tutta un'altra serie di speculazioni quindi persone che acquistano USDT in modo che poi quando torni su se torna su vadano a rivendere e ottenere profitto cioè qua c'è un bel 60% di profitto con una stable coin quindi un'ondata speculativa è un'ondata distruttiva altamente distruttiva per la piattaforma e mi spiace molto White Whale chi conosce White Whale sa che è una piattaforma nata per fare arbitraggio e tenere il peg in piedi loro hanno detto che non hanno ancora cioè non avevano ancora intervenuto non erano ancora intervenuti e comunque hanno tirato fuori un altro problema e il problema è questo qui il problema di White Whale è che White Whale può operare solo dentro terra luna non riesce e anche su osmosis se non sbaglio non riesce a operare al di fuori su ethereum né tantomeno su binance e quindi questo arbitraggio che fa White Whale è molto debole rispetto a quello che è il volume perché il maggior volume di scambi lo si ha qua su binance e qui non ci può intervenire e qui non può ripristinare alla luce di questo attacco qual è stata la reazione allora Do Kwon è il team quindi la luna foundation e quello che è tutto il team appunto di terra luna vediamo se riesco a ingrandire ecco qua perfetto quello che è stata la foundation sono andati a dare in prestito gli 1.5 miliardi in bitcoin per fare dei sell pianificati e andare piano piano a ristabilire il peg quindi 1 usd uguale un dollaro tradizionale questo è quello che stanno facendo attualmente intanto vorrei mostrarvi una cosa vi parlo di attacco per un motivo perché se andiamo a vedere i wallet che hanno ecco qua vediamo dovrebbe essere qui qui abbiamo un elenco dei wallet che hanno prelevato fondi da terra luna se andiamo a vedere la maggior parte di questi wallet avevo visto qualcosa tipo 5 wallet che hanno prelevato 900 milioni di dollari da soli quindi chi sta prelevando sono delle whale delle balene poi abbiamo tutti questi altri portafogli che come vediamo stanno tirando via c'è da dire che molti di questi stanno tirando fuori soldi ma li hanno anche reinvestiti ad esempio vediamo questo wallet qua se riesco a copiarlo andiamo su sul terrascope eccolo qua vediamo se lui ce ne sono diversi che hanno tanto ancora dentro no questo qui c'ha 3 dollari quindi ha prelevato anche lui si è tolto ecco qua 3 milioni verso Binance questo l'otto quindi altro attacco c'è tutta una serie di attacchi altri 4 milioni sempre l'otto altri 4 questo sempre l'otto cioè è tanto eh ragazzi è proprio un attacco è un attacco c'è niente da dire è proprio un attacco su più fronti e dispiace vedere queste cose qui dispiace molto allora vediamo un po' c'era comunque molti di questi hanno in realtà riutilizzato soprattutto i primi investitori in USD e Luna quindi i primi diciamo appassionati innamorati di questa coin di questo progetto stanno riacquistando cioè stanno tentando di tenere su in piedi il tutto sono arrivati per esempio 200 milioni in acquisto subito poco dopo che è successa quella roba lì si pensa sia stato Jump Capital comunque qualche aziendina per tenerli su fatto sta che comunque la situazione non è delle migliori e anzi anzi è molto molto pericolosa l'altro problema è questo però che vorrei invitarvi a vedere perché l'attacco di Luna Luna ultimamente se avete notato si è agganciata tipo piovra a ogni altro protocollo quindi a Bitcoin ma anche in parte ad Avalanche e poi Ethereum in parte a Solana quindi a tutte le big ovviamente in larghissima parte a Bitcoin diventando la seconda detentrice più più grande di Bitcoin e che quindi se deve andare a venderli per ristabilire il peg significa che porta a un calo di Bitcoin ma su Ethereum c'è stata tutta una serie di speculazioni anche qui tra Luna e Ethereum che hanno portato Ethereum anche lui a scendere così come Avax quindi Avalanche Solana se Luna si affossa porta comunque con sé trascina comunque con sé non nella fossa ma con dei problemi seri anche le altre valute personalmente penso che non sia un caso quello che è successo e questo mi fa ancora più arrabbiare perché significa che e dovremmo rifletterci tutti evidentemente le criptovalute ancora c'è la mano dei poteri forti che hanno comunque i loro soldi e comunque continuano a piazzare lì e rompere le scatole questo è da dire UST a mio parere va protetto perché è comunque un protocollo estremamente interessante ed è quel tentativo di creare quella stable coin quella valuta sganciata dalle valute fiat quindi quel sogno di creare qualcosa fuori dal sistema tradizionale che però ancora una volta è stato attaccato e ora sta in ginocchio e adesso veramente in ginocchio e questo mi rende profondamente arrabbiato da un lato ma anche triste dall'altro ho notato poi un'altra cosa non so se avete visto i post più che i post le le interviste alla Yellen per chi non sapesse Yellen vi faccio vedere chi è anzi forse vi trovo proprio il il post perché merita c'è l'intervista vediamo un po' se la trovo Yellen allora Yellen UST vediamo se la trovo eccolo qua segretario al tesoro degli Stati Uniti per chi non sapesse chi è questa questa donna che l'abbiamo vista più volte in mezzo a parlare allora vediamo un po' se trovo quello che ho letto e questa la dice lunga e comunque allora dice che il DPEG del Terra UST mostra un'urgenza di avere un piano regolatore sulle stable coin che vada a minimizzare la volatilità dei prezzi visti in molte cryptocurrency una stable coin dice una stable coin conosciuta come Terra USD ha sperimentato un declino nel suo valore dice al Senato penso che questo illustra che un prodotto a così rapida crescita si porta dietro sostanzialmente dei rischi finanziari di stabilità e ha bisogno di un piano regolatore di fatto appropriato non penso ci sia altro da aggiungere penso anzi che sia chiara la situazione anche perché sappiamo come funziona creo il problema do la soluzione e il problema fino adesso qual è stato che le cripto vanno in contrasto con la finanza tradizionale e chi in particolare non le cripto ma le stable coin quelle soprattutto DeFi allora che cosa faccio io ti mostro la loro vulnerabilità la vulnerabilità le affosso e poi ti do i piani regolatori che significa catene perché ti rinchiudono e poi ti do le mie C B D C le mie central bank digital currency quindi le mie valute digital quelle che non hanno questo problema non vanno giù detto da inflazioni valute fiat che fan casini eccetera eccetera questo è il problema ragazzi è che io ero convinto di riuscire non dico a uscire da questo conflitto ma comunque avere un pochino più di tranquillità e in realtà non è così non è così e questo ripeto so che tanti stanno perdendo soldi personalmente io avevo su e ho ancora perché sono ancora dentro perché in parte ho fatto dei piccoli exit giusto per mettere da parte qualcosa ma la maggior parte del capitale io ce l'ho ancora dentro ancora dentro UST e ho diverse decine di migliaia tutte là dentro e stanno andando giù e questo ferisce da un lato dall'altro fa incazzare perché si sa qual è la dinamica dietro sono dentro perché voglio supportare fino alla fine supportare un progetto che comunque ha qualcosa dietro che comunque si mostra porta sul mercato una soluzione a quello che è il sistema tradizionale tanti stanno fuggendo non è il mio caso non vi sto invitando a fare altrettanto per carità quindi ognuno faccia i propri conti certo uscire adesso significa sacrificare tanto ma forse con qualcosina si riesce a uscire perché la situazione vediamo un po' siamo a 5 dollari per l'una cioè questo è successo questa roba qui non è una coincidenza non è che uno preleva 100 milioni e crolla una piattaforma da 20 miliardi e passa la seconda per per volumi e la seconda sul mercato globale per quantità di soldi questa roba qui non esiste da nessuna parte sta roba qui ragazzi non esiste da nessuna parte è una manipolazione bitcoin a ruota ha seguito tutto quello che io vedo personalmente e sto facendo ricerche sui wallet per capire per vedere da bitcoin in poi quella teoria sul affossare un pochino bitcoin secondo me ha senso ha pienamente senso perché se io ho bitcoin qua e voglio affossarlo era 39k ok voglio tirarlo giù a 30 inizio a vendere dei bitcoin quindi vendo scambio dei bitcoin per UST perché proprio per UST primo per il suo simbolo perché cos'è per cosa rappresenta secondo perché è la seconda holder di bitcoin più grande al mondo terzo perché è una stable coin ed è vulnerabile a questo punto scambio i miei bitcoin per UST portando un leggero crollo del bitcoin fino a 30k circa a questo punto che ho gli UST ho accumulato UST li vendo li vendo su due mercati diversi il più grande su ethereum e il più grande su binance il più grande in defi e il più grande in cefai portando ad un collasso dello UST quindi faccio cadere la valuta caduta la valuta queste persone qui per tenerla in piedi hanno solo una possibilità vendere la riserva di bitcoin in perdita tra l'altro e questo che cosa porta ad un ulteriore caro e io sto abbassando bitcoin lo sto depotenziando ma soprattutto creo nella mente delle persone che crypto uguale pericolo stable coin uguale pericolo e se è successo con UST questa cosa qui può succedere con qualsiasi altra stable coin obiettivamente ragazzi siamo ancora in mano a questi potenti non siamo ancora decentralizzati realmente finché queste persone stanno in piedi noi e noi non ci ribelliamo e noi rimaniamo in balia lasciamo che loro giochino con i nostri risparmi giochino con i nostri soldi noi siamo lì questo è un attacco premeditato studiato nei minimi dettagli è un attacco studiato nei minimi dettagli chi l'abbia fatto non lo so vorrei saperlo anche solo per tirargli una testata ma non lo so però dobbiamo essere consci del fatto che questo non è un gioco è un attacco premeditato non so come si risolverà la situazione ho visto dei tweet vediamo se troviamo qualcosa di Do Kwon allora Do Kwon eccolo qua che dice che stanno lavorando per ripristinare il tutto vediamo un po' getting close stiamo vicini stiamo 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 forti vicini a annunciare un recovery plan per UST vedremo un po' cosa cosa succederà ragazzi veramente triste la cosa tanto triste vediamo cosa dice Anchor Protocol se in silenzio stampa no intanto sono partite tutta una serie di liquidazioni ragazzi potentissime potentissime vediamo invece se ha qualche annuncio white whale interessante peg tutta una serie di brutte storie ragazzi we can and we continue to earn continuano a lavorare guardate qua che roba il peg che va giù sono ancora lì che lavorano vedremo stederlabs vediamo cosa ci racconta di bello in momenti difficili siamo sempre tutti più vicini più forti stanno offrendo incentivi roba per attirare liquidità per tenere tutto chiuso vediamo ad esempio su Astroport abbiamo 1052% sul Luna UST 159% ST Luna 100% Biluna Luna annuale ma questo è quello che mi fa accapponare la pelle 1520% ragazzi fuori di testa qui tanto la situazione continua a scendere continuano a uscire liquidità su liquidità su liquidità brutta 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 questione switch protocol non mi funziona non riesco a vedere mirror è ancora lì che anche lui che perde liquidità a volontà è pesante ragazzi è proprio pesante pesante anche loop vediamo loop market come se la cava anche lui sta in perdita forte mamma mia mamma mia che roba mai e poi mai avrei pensato di assistere anzi non di assistere perché assistere ne ho viste di cazzate così ma api luna ust 3000% 3000% c luna luna 5000 fuori di testa biluna ust 5000% mai e poi mai avrei pensato di essere vittima di una roba di questo tipo e sono in perdita di tantissimo ragazzi proprio tantissimo cioè ci compravo due terreni con quello che è con quello che sto sto perdendo qui però vediamo vediamo cosa succede continuiamo cioè manteniamo la speranza chiaramente e facciamo tanta attenzione tanta attenzione sicuramente si sta imparando tanto quello sì però a che prezzo mi auguro veramente che luna riesca a recuperare come si deve mi auguro veramente che luna riesca a recuperare come si deve io vi ho lasciato paint intanto stavo guardando sono profuso stavo guardando come andava la roba ma vi ho lasciato paint anziché mostrarvi gli apy comunque potete andare a vederli su loop finance oppure su astroport li vedete da voi anche su terra swap sono tutti altissimi giustamente perché devono ottenere liquidità un giorno nero proprio un giorno nero mai poi mai avrei pensato una roba di questo tipo così così forte quello che personalmente faccio ora come reazione allora da un lato sto aspettando per vedere cosa succede io non vi nego che ho acquistato altri luna ieri in ottica di una salita in realtà poi si sono ulteriormente dimezzati anzi sono scesi tre volte perché l'ho presa 15 sono a 5 e questo mi fa incazzare chiaramente penso che forse prenderò ancora qualcosa per andare ad accumulare ma vorrei vedere il piano che viene attuato non so se si riprende luna non sono proprio così positivo ieri ero molto più positivo oggi ovviamente sono cioè il danno è fatto è rotta luna ormai luna è rotta puoi recuperare puoi inventare piani cose per ritirarla un pochino su ma ormai la fiducia è persa e se la fiducia è persa nel progetto o si gioca bene a livello marketing mostrando come ci si rimette in piedi da una caduta di quel tipo che è l'unica non ha un precedente non esiste una caduta di questo tipo nella storia delle criptovalute cioè è veramente un attacco senza precedenti se si riesce a mettere in piedi allora so che l'una può essere estremamente resiliente non è il primo e non sarà l'ultimo forte così è il primo ma non sarà l'ultimo temo quindi è da valutare attualmente sono dentro una parte l'ho tirata fuori e l'ho investita in gold in oro e una parte in bitcoin e una parte in ethereum quello che sto imparando è che forse la cosa migliore è vero che comunque la mia strategia del 50% del portafoglio in stablecoin in questi casi purtroppo va a essere attaccata perché mi hanno attaccato la stablecoin e quindi forse era meglio averli in bitcoin da un lato però rimane quella cioè comunque rimane sempre avere un 50% in stablecoin quello sicuro quindi 50% in stablecoin che genera interesse il resto del portafoglio sto iniziando a pensare di ridurlo parecchio e limitarlo a bitcoin barra ethereum per un 20% e oro per un altro 20% in modo che mi vada a coprire le oscillazioni di questo 20% qua in situazioni in questo momento di mercato chiaramente che è altamente instabile questo è quello che ho attualmente in mente quello che sto facendo è purtroppo le mani legate cioè la liquidità è lì ferma come penso tantissime altre persone l'unica che si può l'unica cosa che si può fare è piazzarla in nei vari pool di liquidità al 1400% e recuperare il più possibile più si riesce a recuperare più percentuale si fa al giorno e nell'ottica di un'eventuale ripresa mi ritroverei in portafoglio recuperati quei fondi immediatamente oppure se ci vuole più tempo li terremo per più tempo lì ormai sono immobilizzati ho le mani legate ed è una delle cose che odio di più comunque questo mi fa mi fa dire sostanzialmente che è il momento di di cambiare di cambiare drasticamente tutto ma non a livello di piattaforma e cose proprio a livello di sistema è il momento che ci alziamo tutti e andiamo a bussare alla porta di chi fa le stronzate e andiamo a bussare a bussare Grazie a tutti